buon pomeriggio sono sul lungo lago di garda sto andando da riva del garda in direzione sud quindi andrò verso desenzano e poi andrò a salò allora come puoi vedere qua lo spettacolo è veramente notevole lì c'è la passeggiata pedonale del lungo lago di garda e qua c'è la statale che praticamente costeggia qua tutto il lungo lago da riva del garda porta verso la zona sud come puoi vedere qua ci sono gallerie scavate nella roccia questa è una ma la ci sono dei tunnel ancora più spettacolari e purtroppo non ho potuto filmare perché stavo stavo guidando ora mi sono fermato un attimo e ti voglio regalare questo spettacolo poi ti mando degli altri filmati quando sono più a sud per il momento è tutto buon pomeriggio